Torna al successo il Sambuceto nel match casalingo contro il retrocesso Martinsicuro. Vittoria senza affanni per la squadra di Savini che riprende la sua corsa playoff agganciando il secondo posto in coabitazione con la Torrese a due giornate dalla fine del campionato. Il pallino del gioco è da subito del Sambuceto che in apertura di gara sblocca il punteggio. Criscolo viene atterrato in area e lui stesso si presenta sul dischetto per l'1-0 in favore dei parroni di casa che al diciannovesimo trovano il raddoppio con lo stesso Criscolo, oggi implacabile sottoporta. Il Martinsicuro cerca di proporsi in avanti e poco prima della mezz'ora trova il gol con Pizzi, bravo a finalizzare una bella azione degli ospiti. Il Sambuceto però non molla la presa, prima è Lali a impegnare l'attento Cannella e sul susseguente corner è Legnini a timbrare la traversa. Camperchioli subentra ad Angelo al 35esimo nei parroni di casa e appena prima del riposo Criscolo firma la sua tripletta di giornata portando il punteggio sul momentaneo 3-1. Nella ripresa la musica non cambia, sul nuovo tentativo di Criscolo risponde presente Cannella che però al cinquantesimo deve arrendersi a Lali ben servito dal suo compagno di reparto. A metà del secondo tempo arriva anche la quinta marcatura del Sambuceto con il fuori quota per rotta. Dall'altra parte invece è Palladini a provarci di testa senza inquarrare lo specchio della porta difesa da Dedeo. Nel finale di gara Sambuceto ancora in avanti, Camperchioli prima alza troppo la mira da buona posizione e poi porta avanti una bella combinazione con Distilio che realizza il 6-1. A chiudere i conti ci pensa Polletta con la rete che al 92esimo fissa il punteggio sul definitivo 7-1 tra gli applausi del pubblico di casa. Nel dopogara così i due allenatori Paolo Savini e Guido Di Fabio. Noi innanzitutto dobbiamo centrare i playoff, poi la miglior posizione che andiamo a trovare sicuramente la griglia di partenza è più alto e è meglio affrontare poi i playoff, però non ancora abbiamo centrato i playoff quindi dobbiamo lavorare per centrare i playoff e poi andiamo a cercare una posizione migliore. Di Fabio la penultima trasferta del campionato, una stagione che il Martinsicuro sta portando a termine tante buone intenzioni in campo, qualcosa di buono l'abbiamo vista dalla sua squadra ma la domanda è un'altra. Al termine di quest'annata cosa resterà? Sicuramente è stato fatto un grosso lavoro perché molti ragazzi giovani, forse qualcuno anche il primo anno che giocava a calcio, quindi hanno avuto un percorso di crescita importante, speccato perché sono stati, l'unica cosa, sono stati catapultati in una realtà più grande della loro perché sono molto molto giovani e magari mancando qualche uomo di esperienza la crescita è avvenuta per qualcuno un po' di più, per qualcuno un po' di meno.